E' importantissimo anche in base ai risultati, insomma avevamo già perso delle chance. Giorati il campionato precedenti, oggi era fondamentale vincere, siamo stati bravi dall'inizio concentrati e adesso siamo in un'ottima posizione. Concentrati è sembrata anche una prova di maturità, la qualità che ha nei cambi questa squadra, soprattutto in un periodo così intenso che sta per iniziare, questo è un punto di forza in più di questa Roma? Sì, quando siamo tutti senza infortuni abbiamo un'ottima rosa, abbiamo anche degli ottimi cambi e dobbiamo stare bene, quando siamo bene sappiamo che possiamo vincere contro chiunque e ci meritiamo di stare lì nei primi quattro e di andare avanti in Europa. Un passo alla volta, adesso appunto arriva una partita altrettanto importante in Europa. Esatto, adesso c'è l'Europa, si pensa a quella, bisogna pensare una partita alla volta perché sennò sono troppe partite per fare troppi calcoli, però adesso ce la andiamo a giocare. Grazie.